La mostra Optical Wives presenta una selezione di più di 50 opere di arte astratta, programmatica e cinevisuale provenienti dalle raccolte della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. La selezione racconta il tentativo da parte di un gruppo di artisti italiani e stranieri di superare le poetiche dell'informale attraverso la fede nella razionalità del progetto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS